Ciao, sono Rudolf, 35 anni, ex soldato grazie ai miei incarichi all'estero. Ho perso molti capelli per stress, ho deciso di fare un trapianto. Ho anche telefonato con alcune cliniche e raccolto un sacco di informazioni e mi sono sentito davvero a mio agio dal Lee Hair. E per questo ho scelto loro e lo consiglierei assolutamente a tutti. Che ci pensa sono a farla facile o anche di andare dal Lee Hair. In Turchia dal Lee Hair era semplicemente. Mi sentivo a mio agio. Sono stato preso all'aeroporto, portato al mio hotel con una vecchia personale. Tutte le indagini sono state super professionali. Il giorno dopo c'era il controllo di follow up non è stato niente di che. Dopo il trapianto di capelli, durante i primi tre mesi, ho avuto i miei dubbi, pensando, ma che cavolo ho fatto davvero? Perché alla fine non è aumentato, anzi è calato e dal quarto mese è stato perfetto. Dopo i capelli sono diventati una meraviglia. Non poteva andare meglio. Sono soddisfatto del risultato e lo rifarei, se si riducesse ancora.